salve tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qui per un altro big match ossia benevento pordenone partita importante per loro perché sono un punto dal secondo adesso sono scesi grazie di parlare sono un punto 36 37 così vedendo come posizionamento in classifica e noi ovviamente siamo in atto però in totale emergenza oggi giusto 18 persino convocate 15 della rosa standard e 3 della primavera quindi 18 ridotto all'osso la rosa e diciamo che attenzione all'ex di turno camporese col tendo per l'auto che anche è l'andata diciamo è stata una grande scoperta tra vita non una grande però diciamo andato bene ha fatto una grande partita detto ciò ragazzi oggi speriamo di vincere come al solito totale emergenza ma noi ci crediamo sempre lo stesso e ricordiamo che siamo 11 mila persone e ci sarà la coreografia della cura sud dedicata a carmelo imbriani il nostro mitico capitano e poi da pordenone vengono sette persone e quindi saranno pochi e nulla ragazzi ci vediamo a fine primo tempo per le prime impressioni su questa partita con la pioggia con il vento e con il sole eccoci qua ragazzi fine primo tempo 1 a 0 con una perla di viola però il pordenone ragazzi attacca è bella partita 44 diciamo di cui tre fuori una bella parata di montipò e nulla però la mancina equilibrata e siamo in vantaggio speriamo di vincere e portarci altri tre punti a casa vogliamo fare anche il secondo pollice per chiudere la partita ci vediamo a fine partita e vediamo un po tutte le pressioni e soprattutto il risultato finale sperando che sia così forza bene eccoci qua ragazzi partita finita vinciamo chiudiamo la partita sul 2 a 0 con gol di insignia e nulla cosa diciamo questo pordenone il secondo tempo diciamo che ha fatto a creare altre cose una grande montipò grandissima parata di montipò diciamo che il pordenone si è demoralizzato in se stesso dopo tutto questo qui sono sprecati che ho i grandissimi parati di montipò è stata comunque possiamo dire una bella partita rispetto alle altre squadre molto lunghe che attaccano si attaccano e si difendono comunque l'arbitro è sempre vergognoso ultimi arbitraggi veramente assurdi e un arbitro che non diciamo non dirige la partita ma la fa incattivire anche quest'oggi purtroppo e nulla però abbiamo visto un grande benevento come al solio nonostante le assenze importanti che ci sono il crotone perde quindi noi allunghiamo in classifica e nulla siamo contenti speriamo che siate contenti anche voi che vi portiamo queste belle notizie e nulla ci vediamo in un prossimo video che stiamo vedendo un po cosa fare perché può essere ci potrebbe essere una sorpresa e nulla lasciate un bel like iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo video sempre forse bene babba suona a tutti ragazzi ciao